Anche Fano partecipa alla giornata europea della cultura ebraica assieme ad altre 105 città italiane nell'ambito di una manifestazione che coinvolge 27 paesi europei. Fano sabato sera avrà il piacere di ospitare un gruppo musicale, quattro componenti, che peraltro sono di fedi diverse e quindi sono anche interculturali sotto questo aspetto e porteranno uno spettacolo che avrà come cuore il concetto principale quest'anno che è alla base della giornata della cultura ebraica che è la famiglia. E quindi svilupperanno questo tema con canti, con testi e sarà anche uno spettacolo molto animato. Saremo in Sala Verdi sabato sera ore 21.15, sabato 14, ingresso libero e avremo con ciò il piacere di ospitare tutte le persone che hanno curiosità perché purtroppo intorno alla cultura ebraica molte volte si hanno tante diffidenze che generano poi pregiudizio, che generano poi magari emarginazione. L'unico modo per poter superare questa emarginazione è conoscere, confrontarsi e avremo anche la curiosità di scoprire alcuni aspetti molto curiosi, molto piacevoli che in realtà ci fanno capire come le nostre culture siano fondamentalmente culture sorelle.